In un importante colpo di mercato per l'Olimpica Basket, la formazione che medita nel campionato di Serie C Silver. Con una nota diffusa sulla propria pagina Facebook, la società ha fatto sapere che è in arrivo un nuovo giocatore. Si tratta di Roberto Malpede, un'ala proveniente da Scafati, dove con la sua presenza ha contribuito alla promozione in Serie B e anche con numerose esperienze all'estero, in Spagna ed in Germania. Malpede sarà a disposizione giovedì di coach Giovanni Gesmundo, ma per vederlo in campo bisognerà aspettare il transfer che arriverà dalla Germania, dove tra l'altro ha giocato la prima parte della stagione. Dunque si va a colmare il vuoto che era stato lasciato da Nicola Vuovolo, che aveva definitivamente lasciato la maglia giallo-blu per motivi familiari domenica scorsa. dopo la partita persa contro Manfredonia, Mimo Siena, Speciale News.